Quest'anno sulle lapidi dei cimiteri ci saranno meno crisantemi, colpa dei costi troppo elevati. Sulla lapide del caro estinto spopolano altre varietà di fiori, dai ciclamini alle margherite, ma il fiore di stoffa economico e duraturo la fa da padrone. Anche per il fatto che almeno da dieci anni a questa parte le visite al cimitero sono in picchiata vertiginosa per la ricorrenza dei defunti, ancora di più durante l'anno. Il crisantemo meno caro ormai si compra nel centro commerciale, dove un singolo fiore si acquista con 50 centesimi contro i 4 euro di media degli ambulanti e i 15 o 20 euro nei negozi pregiati. Risultato? Fiorai semi vuoti e coda alle bancarelle. Al cimitero monumentale scelta e smercio aumentano, ma non diminuiscono i prezzi. Nell'infilata di negozi lungo il perimetro del Campo Santo, i crisantemi più a buon prezzo vengono 3 euro, quelli più grandi e rari 15. In occasione della ricorrenza dei defunti, i cimiteri della città sono aperti al pubblico oggi, domani e mercoledì con orario d'ingresso dalle 8.30 alle 17.30, con chiusura alle 18.00. Nella festa dei Santi domani l'arcivescovo celebrerà la messa in Duomo alle 10.30, nel pomeriggio alle 15.30 al cimitero Parco. Mercoledì 2, commemorazione dei defunti, alle 15.30, Monsignor Dosiglia celebrerà la messa al cimitero monumentale.